Capitolo ottavo Carneade Chi era costui? Ruminava tra sedo un abbondio seduto sul suo seggiolone e in una stanza del piano superiore con un libricciolo aperto davanti quando perpetua entrò a portarle in l'imbasciata Carneade Questo nome mi par bene d'averlo letto o sentito Doveva essere un uomo di studio un letteratore del tempo antico è un nome di quelli Ma che diavolo era costui? Tanto il povero uomo era lontano da prevedere che burrasca li si addensasse sul capo Bisogna sapere che don abbondio si dilettava di leggere un pochino ogni giorno e un curato suo vicino che aveva un po' di libreria gli prestava un libro dopo l'altro il primo che gli veniva alle mani Quello su cui meditava in quel momento don abbondio convalescente della febbre e dello spavento anzi più guarito quanto alla febbre che non volesse lasciar credere era un panegirico in onore di San Carlo detto con molta enfasi e udito con molta ammirazione nel Duomo di Milano due anni prima Il santo vera paragonato per l'amore allo studio ad Archimede e fin qui don abbondio non trovava inciampo perché Archimede ne ha fatte di così curiose ha fatto dir tanto di sé che per saperne qualche cosa non c'è bisogno di una erudizione molto vasta ma dopo Archimede ma dopo Archimede l'oratore chiamava paragone anche Carneade e lì il lettore era rimasto arrenato in quel momento entrò Perpetua ad annunziare la visita di Tonio a quest'ora disse anche don abbondio come era naturale cosa vuole non hanno discrezione ma se non lo piglia il volo già se non lo piglio ora chissà quando lo potrò pigliare fatelo venire ehi siete poi ben sicura che sia proprio lui diavolo rispose Perpetua e scese aprì l'uscio e disse dove siete? Tonio si fece vedere e nello stesso tempo venne avanti anche Agnese e salutò Perpetua per nome buonasera Agnese disse Perpetua e dove si viene a quest'ora? vengo da... e nominò un paesetto vicino e se sapeste continuò mi sono fermata di più appunto in grazia vostra oh perché? domandò Perpetua e voltandosi ai due fratelli entrate disse che vengo anch'io perché? rispose Agnese una donna di quelle che non sanno le cose e vogliono parlare credereste? sostinava a dire che voi non vi siete maritata con Beppe Suola Vecchia né con Anselmo Lunghigna perché non vanno voluta io sostenevo che siete state voi che li avete rifiutati l'uno e l'altro sicuro? ho la bugiarda la bugiardona chi è che stai? non me lo domandate che non mi piace mettere male me lo direte me l'avete a dire oh la bugiarda basta ma non potete credere quanto mi sia dispiaciuto di non sapere bene tutta la storia per confondere con lei guardate se si può inventare a questo modo esclamò di nuovo Perpetua e riprese subito in quanto a Beppe tutti sanno e hanno potuto vedere e ehi Tonio accostate l'uscio e salite pure che vengo Tonio di dentro rispose di sì e Perpetua continuò la sua narrazione appassionata in faccia all'uscio di Don Abbondio s'apriva tra due casipole una stradetta che finite quelle voltava in un campo Agnese vi saviò come se volesse tirarsi alquanto in disparte per parlare più liberamente e Perpetua dietro quando ebbero voltato e furono in luogo dove non si poteva più vedere ciò che accadesse davanti alla casa di Don Abbondio Agnese tossì forte era il segnale Renzo lo sentì fece coraggio Lucia con una stretta di braccio e tutti e due in punta di piedi vennero avanti rasentando il muro zitti zitti arrivarono all'uscio lo spinsero ad agino ad agino chieti e chinati entrarono nell'andito dove erano i due fratelli ad aspettarli Renzo accostò di nuovo l'uscio pian piano e tutte e quattro su per le scale non facendo rumore neppure per uno giunti sul pianerottolo i due fratelli si avvicinarono all'uscio della stanza che era di fianco alla scala gli sposi si strinsero al muro Deo grazias disse Tonio a voce chiara Tonio eh entrate rispose la voce di dentro il chiamato aprì l'uscio appena quanto bastava per poter passare lui e il fratello a un per volta la striscia di luce che uscì di improvviso per quell'apertura e si disegnò sul pavimento oscuro del pianerottolo fece il riscoter Lucia come se fosse scoperta entrati i fratelli Tonio si tirò dietro l'uscio gli sposi rimasero immobili nelle tenebre con orecchie tese tenendo il fiato il rumore più forte era il martellar che faceva il povero cuore di Lucia Don Abbondio stava come abbiamo detto su una vecchia seggiola ravvolto in una vecchia zimarra con in capo una vecchia papalina che gli faceva cornice intorno alla faccia al lume scarso di una piccola lucerna due folte ciocche di capelli che gli scappavano fuori della papalina due folti sopraccigli due folti baffi un folto pizzo tutti canuti e sparsi su quella faccia bruna e rugosa poteva insomigliarsi a cespugli coperti di neve sporgenti da un dirupo al chiaro di luna fu il suo saluto mentre si levava gli occhiali e le riponeva nel libriciolo dirà il signor curato che son venuto tardi disse Tonio inchinandosi come pure fece ma più goffamente Gervaso sicuro che è tardi tardi in tutte le maniere lo sapete che sono malato? oh mi dispiace l'avrete sentito dire sono malato e non so quando potrò lasciarmi vedere ma perché vi siete condotto dietro quel quel figliuolo? così per compagnia signor curato basta vediamo son venticinque berlingue nuove di quelle col sant'ambrogio a cavallo disse Tonio levandosi un involtino di tasca vediamo replicò Don Abbondio e preso l'involtino si rimesse gli occhiali l'apri cavò le berlingue le contò le voltò le rivoltò le trovò senza difetto ora signor curato mi darà la collana della mia tecla è giusto? rispose Don Abbondio poi andò a un armadio si levò una chiave di tasca e guardandosi intorno come per tenere lontani gli spettatori aprì una parte di sportello riempì l'apertura con la persona mise dentro la testa per guardare e un braccio per prendere la collana la prese e chiuso l'armadio la consegnò a Tonio dicendo va bene? ora disse Tonio si contenti di mettere un po' di nero su bianco anche questa? disse Don Abbondio le sanno tutte e come è divenuto sospettoso il mondo non vi fidate di me? come signor curato? si io mi fido lei mi fa torto ma siccome il mio nome è sul suo libraccio dalla parte del debito dunque già chi ha già avuto l'incomodo di scrivere una volta così dalla vita alla morte bene bene interruppe Don Abbondio e brontolando tirò se una cassetta del tavolino levò fuori carta, penna e calamaio e si mise a scrivere ripetendo a viva voce le parole di mano in mano che gli uscivano dalla penna frattanto Tonio e a un suo cenno Gervaso si piantarono retti davanti al tavolino in maniera di impedire allo scrivente la vista dell'uscio e come per ozio andavano stropicciando coi piedi il pavimento per dar segno ai quei che erano fuori d'entrare e per confondere nello stesso tempo il rumore delle loro pedate Don Abbondio immerso nella sua scrittura non badava ad altro allo stropiccio dei quattro piedi Renzo prese un braccio di Lucia lo strinse per darle coraggio e si mosse tirandosela dietro tutta tremante che da sé non vi sarebbe potuta venire entraron pian piano in punta di piedi rattenendo il respiro e si nascosero dietro i due fratelli intanto Don Abbondio finito di scrivere rilesse attentamente senza alzar gli occhi dalla carta la piegò in quattro dicendo ora sarete contento e elevatosi con una mano gli occhiali dal naso la porse con l'altra Tonio alzando il viso Tonio allungando la mano per prendere la carta si ritirò da una parte Gervaso a un suo cenno dall'altra e nel mezzo come al dividersi di una scena apparvero Renzo e Lucia Don Abbondio vide confusamente poi vide chiaro si spaventò si stupì si infuriò pensò prese una risoluzione tutto questo nel tempo che Renzo mise a proferire le parole signor curato in presenza di questi testimoni questa è mia moglie le sue labbra non erano ancora tornate al posto che Don Abbondio lasciando cadere la carta aveva già ferrata e alzata con la mancina la lucerna ghermito con la diritta il tappeto del tavolino e tiratolo a sé con furia buttando in terra libro, carta, calamaio e polverino e balzando tra la seggio del tavolino si era avvicinato Lucia la poveretta con quella sua voce suave e allora tutta tremante aveva appena potuto proferire e questo che Don Abbondio le aveva buttato sgarabatamente il tappeto sulla testa e sul viso per impedirle di pronunziare intera la formula e subito lasciata cadere la lucerna che teneva nell'altra mano si aiutò anche con quella a bacucarla col tappeto che quasi la soffogava e intanto chiedava quanto non aveva in canna perpetua perpetua tradimento aiuto il lucignolo che moriva sul pavimento mandava una luce languida e saltellante sopra Lucia la quale affatto smarrita non tentava neppure di svolgersi e poteva apparire una statua abbozzata in creta sulla quale l'artefice ha gettato un umido panno cessata ogni luce Don Abbondio lasciò la poveretta e andò cercando a tastoni luscio che metteva a una stanza più interna lo trovò entrò in quella si chiuse dentro gridando tuttavia perpetua tradimento aiuto fuori di questa casa fuori di questa casa nell'altra stanza tutto era confusione Renzo cercando di fermare il curato e remando con le mani come se facesse mosca cieca era arrivato all'uscio e picchiava gridando apra apra non faccia schiamazzo Lucia chiamava Renzo con voce fioca e diceva pregando andiamo andiamo per l'amor di Dio Tonio a carpone andava spazzando con le mani il pavimento per vedere di raccapezzare la sua ricevuta Gervaso spiritato gridava e saltellava cercando luscio di scala per uscire a salvamento in mezzo a questo serra a serra non possiamo lasciar di fermarci un momento a fare una riflessione Renzo che strepitava di notte in casa altrui che vi si era introdotto di soppiatto e teneva il padrone stesso sediato in una stanza a tutta l'apparenza di un oppressore eppure alla fine dei fatti era l'oppresso Don Abbondio sorpreso messo in fuga spaventato mentre attendeva tranquillamente i fatti suoi parrebbe la vittima eppure in realtà era colui che faceva un sopruso così va spesso il mondo voglio dire così andava nel secolo decimo settimo l'assediato vedendo che il nemico non dava segno di ritirarsi aprì una finestra che guardava sulla piazza della chiesa e si diede a gridare aiuto aiuto era il più bel chiaro di luna l'ombra della chiesa e più in fuori l'ombra lunga ed acuta del campanile si stendeva bruna e spiccata sul piano erboso e lucente della piazza ogni oggetto si poteva distinguere quasi come di giorno ma fin dove arrivava lo sguardo non appariva indizio di persona vivente contiguo però al muro laterale della chiesa e appunto dal lato che rispondeva verso la casa parrocchiale era un piccolo abituro un bugigattolo dove dormiva il sagrestano fu questo riscosso da quel disordinato grido fece un salto scese il letto in furia aprì l'impannata di una sua finestrina mise fuori la testa con gli occhi tra i peli e disse cosa c'è? correte ambrogio aiuto gente in casa gridò verso lui don Abbondio vengo subito rispose quello tirò indietro la testa richiuse la sua impannata e quantunque mezzo tra il sonno e più che mezzo sbigottito trovò su due piedi un espediente per dar più aiuto di quello che gli si chiedeva senza mettersi lui nel tafferuglio o quale si fosse da dipiglio alle brache che teneva sul letto se le caccia sotto il braccio come un cappello di gala e giù balzelloni per una scaletta di legno corre al campanile afferra la corda della più grossa di due campanette che c'erano e suona a martello i contadini balzano a sedere sul letto i giovinetti sdraiati sul fienile tendono l'orecchio si rizzano cos'è? cos'è? campane a martello fuoco? ladri? banditi? molte donne consigliano pregano i mariti di non muoversi di lasciar correre gli altri alcuni s'alzano e vanno alla finestra i poltroni come se si arrendessero alle preghiere ritornano sotto i più curiosi e più bravi scendono a prendere le forche e gli schiopi per correre il rumore altri stanno a vedere ma prima che quelli fossero all'ordine prima anzi che fossero ben desti il rumore era giunto gli orecchi da altre persone che vegliavano non lontano ritte e vestite i bravi in un luogo Agnese perpetua in un altro diremo prima brevemente ciò che facessero coloro dal momento in cui li abbiamo lasciati parte nel casolare e parte all'osteria questi tre quando videro tutti gli usci chiusi la strada deserta uscirono in fretta come se si fossero avvisti d'aver fatto tardi e dicendo di voler andare subito a casa didero una giravolta per il paese per venire in chiaro se tutti erano ritirati e infatti non incontrarono anima vivente né sentirono il più piccolo strepito passarono anche pian piano davanti alla nostra povera casetta la più quieta di tutte già che non c'era più nessuno andarono allora diviato al casolare e fecero la loro relazione al signor Griso subito questo si mise in testa un capellaccio sulle spalle un sarrocchino di tela incerata sparso di conchiglie prese un bordone da pellegrino disse andiamo da bravi zitti e attenti agli ordini si incamminò il primo e altri dietro e in un momento arrivarono alla casetta per una strada opposta a quella per cui se ne era allontanata la nostra brigatella andando anch'essa alla sua spedizione il Griso trattenne la truppa alcuni passi lontano andò innanzi solo ad esplorare e visto tutto deserto e tranquillo di fuori fece venire avanti due di quei tristi diede loro ordine di scalare ad agino il muro che chiudeva il cortiletto e calati dentro nascondersi in un angolo dietro a un folto fico sul quale aveva messo l'occhio la mattina ciò fatto picchiò pian piano con intenzione di dirsi un pellegrino smarrito che chiedeva ricovero fino a giorno nessuno risponde ripicchia un po' più forte nemmeno uno zitto allora va a chiamare un terzo malandrino lo fa scendere nel cortiletto come gli altri due con l'ordine di sconficare ad agio il paletto per avere libero l'ingresso e la ritirata tutto si eseguisce con una gran cautela e con un prospero successo va a chiamare gli altri le fa entrare con sé li manda a nascondersi accanto ai primi accosta ad agio ad agio l'uscio di strada riposta due sentinelli di dentro e va diritto all'uscio del terreno picchi anche lì e aspetta e poteva bene aspettare sconficca pian pianissimo anche quell'uscio nessuno di dentro dice chi va là nessuno si fa sentire meglio non può andare avanti dunque chiama quei del fico entra con loro nella stanza terrena dove la mattina aveva sceleratamente accattato quel pezzo di pane cava fuori esca pietra acciarino e zolfanelli accende un suo lanternino entra nell'altra stanza più interna per accertarsi che nessun ci sia non c'è nessuno torna indietro va all'uscio di scala guarda porge l'orecchio solitudine e silenzio lascia due altre sentinelle a terreno si fa venire dietro il grignapoco che era un bravo del contado di Bergamo il quale solo doveva minacciare acchietare comandare essere insomma il dicitore affinché il suo linguaggio potesse far credere ad Agnese che la spedizione veniva da quella parte con costui al fianco e gli altri dietro il griso sale ad agio ad agio bestemmiando in cuor suo ogni scalino che scricchiolasse ogni passo di quei mascalzoni che facesse rumore finalmente è in cima qui giace la lepre spinge mollemente l'uscio che mette alla prima stanza l'uscio cede si fa spiraglio vi mette l'occhio è buio vi mette l'orecchio per sentirsi qualche d'uno russa fiata brulica la dentro niente dunque avanti si mette la lanterna davanti al viso per vedere senza essere veduto spalanca l'uscio vede un letto addosso il letto è fatto e spianato con la rimboccatura rovesciata e composta sul capezzale si stringe nelle spalle si volta la compagnia accena loro che va a vedere nell'altra stanza e che li vengono dietro pian piano entra fa le stesse cerimonie trova la stessa cosa che diavolo è questo dice allora che qualche cane traditore abbia fatto la spia si mettono tutti con me in cautela a guardare a tastare per ogni canto buttano sotto sopra la casa mentre costoro sono in tali faccende i due che fanno la guardia all'uscio di strada sentono un calpestio di passini frettolosi che si avvicinano in fretta si immaginano che chiunque sia passerà diritto stanno quieti e a buon conto si mettono all'erta infatti il capestio si ferma appunto all'uscio era Menico che veniva di corsa mandato dal padre Cristoforo ad avvisare le due donne che per l'amor del cielo scappassero subito di casa e si rifugiassero al convento perché il perché lo sapete prende la maniglia del paletto per picchiare e se lo sente tentennare in mano schiodato e sconficato che è questo? pensa e spinge l'uscio con paura quello s'apre Menico mette il piede dentro in gran sospetto e si sente a un punto acchiappare per le braccia e due voci sommesse a destra e a sinistra che dicono in tono minaccioso zitto o sei morto lui invece caccia un urlo un di quei malandrini gli mette una mano alla bocca l'altro tira fuori un coltellaccio per fargli paura il garzoncello trema come una foglia e non tenta neppur di gridare ma tutto a un tratto invece di lui e con ben altro tono si fa sentire quel primo tocco di campana così fatto e dietro una tempesta di rintocchi in fila chi è in difetto è in sospetto dice il proverbio milanese all'uno e all'altro furfante parvi di sentire in quei tocchi il suo nome cognome e soprannome lasciano andare le braccia di Menico ritirano le loro in furia spalanca la mano e la bocca si guardano in viso e corrono alla casa dove era il grosso della compagnia Menico via gambe per la strada alla volta del campanile dove buon conto qualche d'uno ci doveva essere agli altri furfanti che frugavano la casa dall'alto al basso il terribile tocco fece la stessa impressione si confondono si scompigliano surtano vicenda ognuno cerca la strada più corta per arrivare all'uscio eppure era tutta gente provata e avvezza a mostrare il viso ma non poterono star saldi contro un pericolo indeterminato e che non si era fatto vedere un po' da lontano prima di venire loro addosso ci volle tutta la superiorità del griso a tenerli insieme tanto che fosse ritirata e non fuga come il cane che scorta una mandra di porci corre or qua or là a quei che si sbandano ne addenta uno per un orecchio e lo tira in schiera ne spinge un altro col muso appaia un altro che esce di fila in quel momento così il pellegrino acciuffa un di coloro che già toccava la soglia e lo strappa indietro caccia indietro col bordone uno e un altro che s'avviavan da quella parte grida gli altri che corrono qua e là senza saper dove tanto che li raccozzò tutti nel mezzo del cortiletto presto presto pistola in mano coltelli in pronto tutti insieme e poi andremo così si va chi volete che ci tocchi se stiamo ben insieme sciocconi ma se ci lasciamo acchiappare a uno a uno anche i villani ce ne daranno vergogna dietro a me e uniti dopo questa breve arringa si mise alla fronte e uscì il primo la casa come vi han detto era in fondo al villaggio il griso prese la strada che metteva fuori e tutti le andaron dietro in buon ordine lasciamoli andare e torniamo un passo indietro a prendere Agnese e Perpetua che abbiamo lasciato in una certa stradetta Agnese aveva procurato di allontanare l'altra dalla casa di Don Abbondio il più che fosse possibile e fino a un certo punto la cosa era andata bene ma tutta un tratto la serva si era ricordata dell'uscio rimasto aperto e aveva voluto tornare indietro non c'era che ridire Agnese per non fare nascere qualche sospetto aveva dovuto voltare con lei e andarle dietro cercando però di trattenerla ogni volta che la vedesse riscaldata ben bene nel racconto di quei tali matrimoni andati a monte mostrava di darle molta udienza e ogni tanto per far vedere che stava attenta e per riavviare il cicalio diceva sicuro adesso capisco va benissimo è chiara e poi e lui e voi ma intanto faceva un altro discorso con se stessa saranno usciti a quest'ora o saranno ancora dentro che sciocchi che siamo stati tutti e tre a non concertare qualche segnale per avvisarmi quando la cosa fosse riuscita è stata proprio grossa ma è fatta ora non c'è altro che tenere costei a bada più che posso alla peggio sarà un po' di tempo perduto così a corserelle e a fermatine erano tornate poco distante dalla casa di don Abbondio la quale però non vedevano per ragione di quella cantonata e perpetua trovandosi a un punto importante del racconto si era lasciata fermare senza far resistenza anzi senza vedersene quando tutta un tratto si sentì venire ribombando dall'alto nel vano in moto dell'aria per l'ampio silenzio della notte quel primo sgangherato grido di don Abbondio aiuto aiuto misericordia cos'è stato gridò perpetua e volle correre cosa c'è cosa c'è disse Agnese tenendola per la sottana misericordia non avete sentito replicò quella svincolandosi cosa c'è cosa c'è ripete Agnese afferrandola per un braccio diavolo di una donna esclamò perpetua rispingendola per mettersi in libertà e prese la rincorsa quando più lontano più acuto più istantaneo si sente l'urlo di Menico misericordia grida anche Agnese e di galoppo dietro l'altra avevano quasi appena alzati i calcagni quando scoccò la campana un tocco e due e tre e seguita sarebbero stati sproni se quelle ne avessero avuto bisogno perpetua arriva un momento prima dell'altra mentre vuole spingere Lucio Lucio si spalanca di dentro e sulla soglia compariscono Tonio Gervaso Renzo Lucia che trovata la scala era venuti giù saltelloni e sentendo poi quel terribile scampanio correvano in furia a mettersi in salvo cosa c'è cosa c'è domandò perpetua Anzante e fratelli che le risposero con un urtone e scantonarono e voi come che fate qui voi domandò poscia l'altra coppia quando l'ebbe raffigurata ma quelli pure uscirono senza rispondere perpetua per raccorrere dove il bisogno era maggiore non domandò altro entrò in fretta nell'andito e corse come poteva al buio verso la scala i due sposi rimasti promessi si trovarono in faccia agnese che arrivava tutta affannata ah siete qui disse questa cavando fuori la parola stento com'è andata cos'è la campana mi pare di aver sentito a casa a casa diceva Renzo prima che venga gente e si avviavano ma arriva Menico di corsa li riconosce li ferma e ancora tutto tremante con voce mezza fiocca dice dove andate indietro indietro per di qua al convento sei tu che cominciava agnese cosa c'è d'altro domandava Renzo Lucia tutta smarrita taceva e tremava c'è il diavolo in casa riprese Menico ansante li ho visti io mi hanno voluto ammazzare l'ha detto il padre Cristoforo e anche voi Renzo ha detto che veniate subito e poi li ho visti io provvidenza che vi trovo qui tutti vi dirò poi quando saremo fuori Renzo che era il più in sé di tutti penso che di qua o di là conveniva andare subito prima che la gente corresse e che la più sicura era di far ciò che Menico consigliava anzi comandava con la forza di uno spaventato peristrada poi e fuori del pericolo si potrebbe domandare al ragazzo una spiegazione più chiara cammina avanti gli disse andiamo con lui disse le donne voltarono si incamminarono in fretta verso la chiesa attraversarono la piazza dove per grazia del cielo non c'era ancora anima vivente entrare in una stradetta che era tra la chiesa la casa di Don Abbondio al primo buco che videro in una siepe dentro e via per i campi non si erano forse allontanati in cinquanta passi quando la gente cominciò ad accorrere sulla piazza e ingrossava ogni momento si guardavano in viso gli uni con gli altri ognuno aveva una domanda da fare nessuno o una risposta da dare i primi arrivati corsero alla porta della chiesa era serrata corsero al campanile di fuori e un di quelli messo alla bocca a una finestrino una specie di feritoia cacciò dentro un quando Ambrogio sentì una voce conosciuta lasciò andare la corda e assicurato dal ronzio che era accorso molto popolo rispose vengo ad aprire si mese in fretta l'arnese che aveva portato sotto il braccio venne dalla parte di dentro alla porta della chiesa e l'aprì cos'è tutto questo fracasso? cos'è? dov'è? chi è? come chi è? disse Ambrogio tenendo con una mano un battente della porta e con l'altra il lembo di quel tale arnese che si era messo in fretta come? non lo sapete? gente in casa del signor curato animo figliuoli aiuto si voltano tutti a quella casa vi si avvicinano in folla guardano in su stanno in orecchi tutto quieto altri corrono dalla parte dove c'era l'uscio è chiuso e non pare che sia stato toccato guardano in su anche loro non c'è una finestra aperta non si sente uno zitto chi è là dentro? oè oè signor curato signor curato Don Abbondio il quale appena accortosi della fuga degli invasori si era ritirato dalla finestra e l'aveva richiusa e che in questo momento stava a bisticciare sottovoce con perpetua che l'aveva lasciato solo in quell'imbroglio dovette quando si sentì chiamare a voce di popolo venire di nuovo alla finestra e visto quel gran soccorso si pentì di averlo chiesto cosa è stato? che le hanno fatto? chi sono costoro? dove sono? e veniva gridato dalla cinquanta voce a un tratto non c'è più nessuno vi ringrazio tornate pure a casa ma che è stato? dove sono andati? cos'è accaduto? cattiva gente gente che gira di notte ma sono fuggiti tornate a casa non c'è più niente un'altra volta figliuoli vi ringrazio del vostro buon cuore e detto questo si ritirò e chiuse la finestra qui alcuni cominciarono a brontolare altri a canzonare altri a sagrare altri si stingevano nelle spalle e se ne andavano quando arriva uno tutto trafelato che sentava a formare le parole stava a costrui di casa quasi di rimpetto alle nostre donne ed essendosi il rumore affacciato alla finestra aveva veduto nel cortiletto quello scompiglio dei bravi quando il griso si affannava a raccoglierli quando ebbe ripreso fiato gridò che fate qui figliuoli? non è qui il diavolo è giù in fondo alla strada alla casa d'Agnese Mondella gente armata sono dentro perché vogliono ammazzare un pellegrino chissà che diavolo c'è che? 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 e comincia una consulta tumultuosa bisogna andare bisogna vedere quanti sono? quanti siamo? chi sono? il console il console sono qui risponde il console di mezzo alla folla sono qui ma bisogna aiutarmi bisogna obbedire presto dov'è il sagrestano? alla campana alla campana presto uno che corre all'ecco a cercare soccorso venite qui tutti chi accorre chi sguizza tra uomo e uomo e se la batte il tumultuo era grande quando arriva un altro che li aveva veduti partire in fretta e grida correte figliuoli ladri o banditi che scappano con un pellegrino sono già fuori del paese addosso 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 a questo avviso senza aspettare gli ordini del capitano si muovono in massa e giù alla rinfusa per la strada di mano in mano che l'esercito s'avanza qualche d'uno di quei dell'avanguardia rallenta il passo si lascia sopra avanzare e si ficca nel corpo della battaglia gli ultimi spingono innanzi lo sciame confuso giunge finalmente al luogo indicato le tracce dell'invasione erano fresche e manifeste l'ucio spalancato la serratura sconficcata ma gli invasori erano spariti si entra nel cortile si va all'uscio del terreno aperto e sconficcato anche quello si chiama Agnese Lucia il pellegrino dov'è il pellegrino l'avrà sognato Stefano il pellegrino no no l'ha visto anche Carlo Andrea o è il pellegrino Agnese Lucia nessuno risponde le hanno portate via le hanno portate via ci fu allora di quelli che alzando la voce proposero di inseguire i repitatori che era un'infamità e sarebbe una vergogna per il paese se ogni birbone potesse a man salva venire a portare via le donne come il nibbio e i pulcini da un'aia deserta nuova consulta e più tumultuosa ma uno e non si sape mai bene chi fosse stato gettò nella brigata una voce che Agnese e Lucia non si era messi in salvo in una casa la voce corse rapidamente ottenne credenza non si parlò più di dar la caccia ai fugitivi e la brigata si sparpagliò andando ognuno a casa sua era un bisbiglio uno strepito un picchiare e un aperduci un apparire e uno sparire di lucerne un interrogare di donne dalle finestre un rispondere dalla strada tornata questa deserta e silenziosa i discorsi continuarono nelle case e morirono negli sbadigli per ricominciare poi la mattina fatti però non ce ne fu altri se non che quella medesima mattina il console stando nel suo campo col mento in una mano e il gomito appoggiato sul manico della vanga mezza ficcata nel terreno e con un piede sul vangile stando dico a speculare tra sé sui misteri della notte passata e sulla ragione composta di ciò che gli toccasse a fare e di ciò che gli convenisse a fare vide venirsi incontro due uomini d'assai gagliarda presenza chiomati come due re dei franchi della prima razza e somigliantissimi nel resto a quei due che cinque giorni prima avevano affrontato Don Abbondio seppur non erano quei medesimi costoro con un fare ancor men cerimonioso intimarono al console che guardasse bene di non far deposizione al podestà dell'accaduto di non rispondere il vero caso che ne venisse interrogato di non ciarlare di non fomentare le ciarle dei villani per quanto aveva cara la speranza di morire di malattia i nostri fuggiaschi camminarono un pezzo di buon trotto in silenzio voltandosi ora l'uno ora l'altro a guardare se nessuno li inseguiva tutti in affanno per la fatica della fuga per il battecuore per la sospensione in cui erano stati per il dolore della cattiva riuscita per la prensione confusa del nuovo oscuro pericolo e ancor più in affanno li teneva all'incalzare continuo di quei rintocchi i quali quanto per l'allontanarsi venivano più fiocchi ottusi tanto pareva che prendessero non so che di più lugubre e sinistro finalmente cessarono i fuggiaschi allora trovandosi in un campo disabitato e non sentendo un alito all'intorno rallentarono il passo e fu la prima agnese che ripreso fiato ruppe il silenzio domandando a Renzo come era andata domandando a Menico cosa fosse quel diavolo in casa Renzo raccontò brevemente la sua trista storia e tutti e tre si voltarono a Fanciullo il quale riferì più espressamente l'avviso del padre e raccontò quello che egli stesso aveva veduto e rischiato e che purtroppo confermava l'avviso gli ascoltatori compresero più di quel che Menico avesse saputo dire a quella scoperta si sentirono rabbrividire si fermarono tutte e tre a un tratto si guardarono in viso l'un con l'altro spaventati e subito con un movimento unanime tutti e tre posero una mano chi sul capo chi sulle spalle del ragazzo come per accarezzarlo per ringraziarlo tacitamente che fosse stato per loro un angelo tutelare per dimostrargli la compassione che sentivano dell'angoscia da lui sofferta e del pericolo corso per la loro salvezza e quasi per chiedergliene scusa ora torna a casa per chi tuoi non abbiano a star più in pena per te gli disse Agnese e lamentandosi delle due parpagliole promesse se ne levò quattro di tasca e gliele diede aggiungendo basta prega al Signore che ci rivediamo presto e allora Renzo gli diede una berlinga nuova e gli raccomandò molto di non dir nulla della commissione avuta dal frate Lucia la carezzò di nuovo lo salutò con voce accorata il ragazzo lo salutò tutti in tenerito e tornò indietro quelli ripresero la loro strada tutti pensierosi le donne innanzi e Renzo dietro come per guardia Lucia stava stretta al braccio della madre e scansava dolcemente e con destrezza l'aiuto che il giovine le offriva nei passi malagevoli di quel viaggio fuori di strada vergognosa in sé anche in un tale turbamento d'essere già stata tanto sola con lui e tanto familiarmente quando si aspettava di divenire sua moglie tra pochi momenti ora svanito così dolorosamente quel sogno si pentiva d'essere andata troppo avanti e tra tante cagioni di tremare tremava anche per quel pudore che non nasce dalla trista scienza del male per quel pudore che ignora se stesso sommignante alla paura del fanciullo che trema nelle tenebre senza saper di che è la casa disse un tratto agnese ma per quanto la domanda fosse importante nessuno rispose perché nessuno poteva darle una risposta soddisfacente continuarono in silenzio la loro strada e poco dopo sboccarono finalmente sulla piazzetta davanti alla chiesa del convento Renzo si affacciò alla porta e la sospinse bel bello la porta di fatto s'aprì e la luna entrando per lo spiraglio illuminò la faccia pallida e la barba d'argento del padre Cristoforo che stava qui diritto in aspettativa visto che non ci mancava nessuno Dio si è benadetto disse e fece l'orcenno che entrassero accanto a lui stava un altro cappuccino ed era il laico sagrestano che egli con preghiera e con ragioni aveva persuaso a vegliar con lui a lasciar socchiusa la porta e a starci in sentinella per accogliere quei poveri minacciati e non si richiedeva a meno dell'autorità del padre e della sua fama di santo per ottenere dall'aico una condiscendenza incomoda pericolosa e irregolare entrati che furono il padre Cristoforo riaccostò la porta ad agio ad agio allora il sagrestano non poté più reggere e chiamato il padre e chiamato il padre da una parte gli andava sussurrando l'orecchio ma padre padre di notte in chiesa con donne chiudere la regola ma padre e tentennava la testa mentre diceva stintantamente quelle parole vedete un poco pensava il padre Cristoforo se fosse un masnadiero inseguito fra fazze non gli farebbe una difficoltà al mondo e una povera innocente che scappa dagli artigli del lupo omnia munda mundis disse poi voltandosi tutto entrato a fra fazio e dimenticando che questo non intendeva il latino ma una tale dimenticanza fa appunto quella che fece l'effetto se il padre si fosse messo a questionare con ragioni a fra fazio non sarebbero mancate altre ragioni da opporre e se al cielo quando e come la cosa sarebbe finita ma al sentire quelle parole gravide d'un senso misterioso e proferite così risolutamente gli parve che in quelle dovesse contenersi la soluzione di tutti i suoi dubbi si acquietò e disse basta lei ne sa più di me fidatevi pure rispose il padre Cristoforo e all'incerto chiarore della lampada che ardeva davanti all'altare si accostò ai ricoverati i quali stavano sospesi aspettando e disse loro figliuoli ringraziate il signore che va scampati da un gran pericolo forse in questo momento e qui si mise a spiegare ciò che aveva fatto accennare dal piccol messo giacché non sospettava che se ne sapessero più di lui e supponeva che Menico li avesse trovati tranquilli in casa prima che arrivassero i malandrini nessuno lo disingannò nemmeno Lucia la quale però sentiva un rimorso segreto di una tale dissimulazione con un tal uomo ma era la notte degli imbrogli e dei sotterfugi dopo di ciò continuò egli vedete bene figliuoli che ora questo paese non è sicuro per voi è il vostro ci siete nati non avete fatto male a nessuno ma Dio vuol così è una prova figliuoli sopportatela con pazienza con fiducia senza odio e siate sicuri che verrà un tempo in cui vi troverete contenti di ciò che ora accade io ho pensato a trovarvi un rifugio per questi primi momenti presto io spero potrete ritornare sicuri a casa vostra a ogni modo Dio vi provvederà per il vostro meglio e io certo mi studierò di non mancare la grazia che mi fa scegliendomi per suo ministro nel servizio di voi suoi poveri cari tribolati voi continua avvolgendosi le due donne potrete fermarvi a la sarete abbastanza fuori da ogni pericolo e nello stesso tempo non troppo lontane da casa vostra cercate del nostro convento fate chiamare il padre guardiano dategli questa lettera sarà per voi un altro fra Cristoforo e anche tu il mio Renzo anche tu devi metterti per ora in salvo dalla rabbia degli altri e dalla tua porta questa lettera al padre Buonaventura da Lodi nel nostro convento di Porto Orientale in Milano e lì ti farà da padre ti guiderà ti troverà del lavoro per finché tu non possa tornare a vivere qui tranquillamente andate alla riva del lago vicino allo sbocco del Bione è un torrente a pochi passi da Pescarenico lì vedrete un battello fermo direte barca vi sarà domandato per chi rispondete San Francesco la barca vi riceverà vi trasporterà all'altra riva dove troverete un baroccio che vi conderà addirittura fino a chi domandasse come fra Cristoforo avesse così subito a sua disposizione quei mezzi di trasporto per acqua e per terra farebbe vedere di non conoscere qual fosse il potere ed un cappuccino ottenuto in concetto di santo restava da pensare alla custodia delle case il padre ne ricevette le chiavi incaricandosi di consegnarli a quelli che Renzo e Agnese li indicarono quest'ultima levandosi di tasca la sua mise un gran sospiro pensando che in quel momento la casa era aperta che c'era stato diavolo e chissà che cosa rimaneva da custodire prima che partiate disse il padre preghiamo tutti insieme il Signore perché sia con voi in codesto viaggio e sempre e soprattutto vi dia forza vi dia amore di volere ciò che egli ha voluto così dicendosi inginocchiò nel mezzo della chiesa e tutti fecerlo stesso dopo che ebbero pregato alcuni momenti in silenzio il padre con voce sommessa ma distinta articolò queste parole noi vi preghiamo ancora per quel poveretto che ci ha condotti a questo passo noi saremmo indegni della vostra misericordia se non ve la chiedessimo di cuore per lui ne ha tanto bisogno noi nella nostra tribolazione abbiamo questo conforto che siamo nella strada dove ci avete messo voi possiamo offrirvi i nostri guai e diventano un guadagno ma lui è vostro nemico oh disgraziato compete con voi abbiate pietà di lui oh signore toccategli il cuore rendetelo vostro amico concedeteli tutti i beni che noi possiamo desiderare a noi stessi alzatosi poi come in fretta disse via figlioli non c'è tempo da perdere dio vi guardi il suo angelo vi accompagni andate e mentre si avviavano con quella commozione che non trova parole e che si manifesta senza di esse il padre soggiunse con voce alterata il cuore mi dice che ci rivedremo presto certo il cuore che gli da retta ha sempre qualche cosa da dire su quello che sarà ma che sa il cuore appena un poco di quello che è già accaduto senza aspettare risposta Fra Cristoforo andò verso la sagrestia i viaggiatori uscirono di chiesa e Fra Fazio chiuse la porta dando loro un addio con la voce alterata anche lui essi si avviarono zitti zitti alla riva che era stata loro indicata videro il battello pronto e data e barattata la parola ci entrarono il barcaiolo puntando il remo alla proda se ne staccò afferrato poi l'altro remo e vogando a due braccia prese il largo verso la spiaggia opposta non tirava un alito di vento il lago giaceva liscio e piano e sarebbe parso immobile se non fosse stato il tremolare e l'ondeggiare leggero della luna che vi si specchiava da mezzo il cielo suddiva soltanto il fiotto morto e lento frangiosi sulle ghiaie del lido il gorgoglio più lontano dell'acqua rotta tra le pire del ponte e il tonfo misurato di quei due remi che tagliavano la superficie azzurra del lago uscivano a un colpo grondanti e si rituffavano l'onda segata dalla barca riunendosi dietro la poppa segnava una striscia increspata che si andava allontanando dal lido i passeggeri silenziosi con la testa voltata indietro guardavano i monti e il paese rischiarato dalla luna e variato qua e là di grand'ombre si distinguevano i villaggi le case le capanne il palazzotto di Don Rodrigo con la sua torre piatta elevato sopra le casucce ammucchiate alla falda del promontorio pariva un feroce che ritto nelle tenebre in mezzo a una compagnia di addormentati vegliasse meditando un delitto Lucia lo vide era brividì scese con l'occhio giù giù per la china fino al suo paesello guardò fisso all'estremità scoprì la sua casetta scoprì la chioma folta del fico che sopravanzava il muro del cortile scoprì la finestra della sua camera e seduta com'era nel fondo della barca posò il braccio sulla sponda posò sul braccio la fronte come per dormire e pianse segretamente addio monti sorgenti dall'acque ed elevati al cielo cime inuguali note a chi è cresciuto tra voi e impresse nella sua mente non men che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari torrenti dei quali distingue lo scroscio come il suono delle voci domestiche ville sparse e biancheggianti sul pendio come branchi di pecore pascenti addio quanto è tristo il passo di chi cresciuto tra voi se ne allontana alla fantasia di quello stesso che se ne parte volontariamente tratto dalla speranza di fare altrove fortuna si disabelliscono in quel momento i sogni della ricchezza e gli si maraviglia di essersi potuto risolvere e tornerebbe allora indietro se non pensasse che un giorno tornerà dovizioso quanto più s'avanza nel piano il suo occhio si ritira disgustato e stanco da quell'ampiezza uniforme l'aria gli par gravosa e morta sino oltramesto e disattento nelle città tumultuose le case aggiunte a case le strade che sboccano nelle strade pare che gli levino il respiro e davanti agli edifizi ammirati dallo straniero pensa con desiderio inquieto al campiciero del suo paese alla casuccia a cui ha già messi gli occhi addosso da gran tempo e che comprerà tornando ricco ai suoi monti ma chi non aveva mai spinto al di là di quelli neppure un desiderio fuggitivo che aveva composto in essi tutti i disegni dell'avvenire e ne è sbalzato lontano da una forza perversa chi staccato a un tempo dalle più care abitudini e disturbato nelle più care speranze lascia quei monti per avviarsi in traccia di sconosciuti che non ha mai desiderato di conoscere e non può con l'immaginazione arrivare a un momento stabilito per il ritorno addio casa natia dove sedendo con un pensiero occulto si imparò a distinguere dal rumore dei passi comuni il rumore di un passo aspettato con un misterioso timore addio casa ancora straniera casa so guardata tante volte alla sfuggita passando e non senza rossore nella quale la mente si figurava un soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa addio chiesa dove l'animo tornò tante volte sereno cantando le lodi del signore dove era promesso preparato un rito dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto e l'amore venire comandato e chiamarsi santo addio chi dava a voi tanta giocondità è per tutto e non turba mai la gioia dei suoi figli se non prepararne loro una più certa e più grande di tal genere se non tali appunto erano i pensieri di Lucia e poco diversi i pensieri degli altri due pellegrini mentre la barca li andava avvicinando alla riva destra dell'Adda